Risiede a Cannara il direttore dell'Avanguardia, rivista nazionale di letteratura contemporanea. Si chiama Alessandro Cesareo, docente di lingue classiche che dall'Umbria dirige uno dei periodici più autorevoli a livello nazionale in tema di letteratura. Ai nostri microfoni racconta lo spirito della sua rivista. Qual è l'obiettivo principale di questa rivista nazionale? L'Avanguardia è un progetto letterario anche un po' ambizioso perché ha come desiderio quello di sviluppare, di incentivare il gusto della letteratura, soprattutto in ambito contemporaneo, con particolare attenzione a dei progetti di formazione, dei progetti pilota che prevedono anche dei momenti di condivisione e learning. Una rivista la cui storia dunque si fonde anche con quella dell'Umbria perché lei risiede in Umbria. Sì, è detto bene. Io da più di dieci anni ormai sono cittadino dello splendido borgo di Cannara dove abito e dove veramente ho avuto notevoli stimoli di carattere culturale. E questa rivista ha trovato nell'Umbria dei partner convinti, soprattutto in alcune scuole pilota che si sono fatte portavoce di questa esigenza di ricerca. Le scuole del territorio, per esempio, la scuola media Mastro Giorgio di Gubbio, il liceo classico Tacito di Terni e poi adesso c'è un progetto che piano piano coinvolgerà tutte le principali scuole dell'Umbria. Canto al professor Cesare, un altro Umbro nato a Montefalco e residente a Campello sul Clitunno, ha scelto di porre la sua penna al servizio della letteratura contemporanea. E' il poeta Riccardo Maria Gradassi, teorico del meditazionismo letterario per il quale era arrivato nel 2003 l'apprezzamento dell'ex presidente della Repubblica Carlo Azzeglio Ciampi e che è ora autore della rubrica Il fiore all'occhiello, nella quale porta a conoscenza del pubblico giovani scoperte in ambito letterario. Quali sono i più grandi tesori in Umbria? Allora, i più grandi tesori in Umbria per questa rivista ovviamente sono tutti scrittori e poeti meno noti. Soprattutto ho visto grandi scritti fatti tra ragazze e ragazze come per esempio la scrittrice, oramai anche diventata abbastanza nota, non solo dopo questi miei articoli ma anche per i libri che ha scritto, la Maria Grazia Cadanzani. C'è anche un'altra poetessa molto molto brava che è la Cinzia Nardi, una spoletina, che sta facendo veramente grande successo. Insomma, nuovi talenti fioriscono dalla terra umbra e chi sa che un giorno i nomi segnalati da gradassi nel suo fiore all'occhiello non approdino alla ribalta nazionale del mondo della letteratura. Grazie. Grazie a tutti.